Con tutti i problemi che ci sono bisogna parlare del carnevale. Con tutti i problemi che ci sono la gente bisogna che si svaghi un po' e quindi bisogna parlare anche del carnevale perché altrimenti non si finisce mai di avere i problemi tutti i giorni. Quindi bisogna un po' divertirsi. Gamba, vieni qua, dove vai? Bisogna divertirsi e bisogna dargli anche un attimo di divertimento durante la settimana. No, scusa, domenica perché tutti i problemi della settimana, almeno la gente, la domenica porta i bambini e le famiglie tutte complete che possano venire al carnevale e passare un attimo tranquillo. Allora, sentiamo, intanto dove lo farete? Domenica prossima dove? Il carnevale è domenica 12, domenica 19 e domenica 26 febbraio. Dove? Dentro l'ex Campo Scuola di Eferentino. Dove siamo stati a fare un SOS? Dove siamo andati a fare un SOS? Abbiamo fatto anche una corsa. Sì, così con l'occasione è stato ripulito tutto. E te o lì, dì la verità, hai avuto in quel momento l'illuminazione di fare lì il carnevale? No. 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 Ce l'avevi già avuta? No, non ce l'hai avuta per niente, perché poi parlando con l'amministrazione comunale sono fatto questa soluzione, perché se no un anno ci sono i coriandoli che dà noia, un anno il traffico che dà noia, le attività commerciali, alcune va bene e credono male. Così siamo lì, non c'è nessuno, si chiude, chi vuole venire viene, non ci sono residenti, non ci sono macchine che devono uscire, macchine che devono entrare, attività commerciale. Ma la gente dove parcheggia? La gente parcheggia al centro affari e poi la sporta delle caselle. Quindi è vicino. Sì, no, ci sono problemi. Poi al centro affari addirittura ci sarà anche l'apertura dalla parte, lato centro affari, lato provincia, quindi potrà tranquillamente parcheggiare al centro affari e poi venire dentro il carnevale. Speriamo che l'informazione arrivi alla gente, che c'è lì, questo carnevale, che è lì all'ex campo scuola. Siamo qui per questo. Siamo qui per questo. Sentiamo i tuoi soci qui di avventura, che lavorano da tanto tempo. Fabbro. Fabbro. Fabbro, per me lo devi dire. Se fossimo sette nani lui sarebbe prontolo. Però è bravo. Senza lui, questo cane ancora ce l'ha da farlo. Senza lui che salda e gli altri che incollano sarebbe veramente un problema. Allora, come sono andati i lavoghi quest'anno? Ma quest'anno è un po' meglio, via, in confronto all'altro anno. Però c'è sempre da fare, perché se parti in 20 e dopo siamo sempre due o tre persone. Manca sempre la gente, insomma. Non si riesce a trovare nessuno? Niente, non si inserisce. Siamo sempre i soliti. Purtroppo i giovani non si avvicinano, non so. Ma poi vengono al carnevale? Ah, venire al carnevale sì. Manca il giorno del carnevale, diciamo che la gente ci adace una mano. Il problema è che qui al capannone non è che manca. Pensa, quest'anno sono 50 anni di carnevale. Non ho persi uno, per fortuna io. E adesso sarebbe l'ora di avere anche un po' di ricambio. Ma se vi prende un raffreddore, non ve lo auguriamo ovviamente. No, non ci prende raffreddore, perché siamo abituati qui al freddo. E quindi non ci prende raffreddore. Il problema si porrà comunque. Prima o poi. Tu dici che non posso dire le parolacce, no? No, non le dico. No, te la meritavo. Ma mica perché devi passare ad altri mondi, però magari non hai più voglia. E chi ci viene qui? Poi stai venire anche te. Io non so buono a fare niente. No, non anch'io non ero buono a fare niente. E ho imparato, nella vita mi ha servito tanto quello che ho imparato al carnevale. 50 anni, ho imparato però. Sì, dopo. E' qualcosa di imparato. E precisamente cosa fai? Quindi ci dici sempre lavori, lavori. Ma proprio precisamente, cosa fai? In un'azienda ci vuole chi lavora e chi dirige. Ah, lui fa niente, ho capito. No, faccio qualcosa anche io. Faccio, faccio. La testa, diciamo, lui è la testa. Perché ci vuole uno la mente e il braccio. Chi è che si organizza? Chi è che si incazza? Chi è che si incazza? Perché altrimenti se non organizzano e non ti incazzi e le cose non si risolvono. Ma canterai anche quest'anno? Io canto tutti i giorni. Ma al carnevale? No, al carnevale ho invitato Enzino Scartoni, che penso che venga, perché io non ce la faccio, ho da fare. E quindi lui mi deve invitare, il maestro non mi deve dare una mano. Qui vediamo, ci fate vedere un pezzo di carro. Sì, esatto. Sarà solo bambini questa? No, non c'è la tematica della politica, non c'è perché purtroppo chi pensa ha avuto le problemi di salute, quindi abbiamo dovuto un po' soprassedere a quel carro lì. E poi perché siamo pochi, quindi in conseguenza non è che possiamo fare tanto. Però diciamo che anche quest'anno ci sono delle belle attrazioni. Penso che il carnevale possano venire tranquillamente tutti. Tutti abbiamo portato anche artisti di strada, mangiafuoco, trampolieri, giochi di circo, ma lo tale appunto da fare sia la sfilata nella pista e al centro della pista, poi magari fare anche altre attrazioni. C'è anche una bella novità, quest'anno la Banda d'Arezzo ha fatto l'inno del carnevale, nuovo, quindi per la prima volta abbiamo un inno proprio particolare del carnevale. Bene, allora ringraziamo il fabbro. Io vi faccio anche loro gli auguri, speriamo che vada tutto bene. Esatto, esatto. Insomma, per quest'anno dovrebbe essere al termine così, è questione di una settimana proprio più. Siamo gli sgocci, quindi per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso carnevale. Non è che l'anno prossimo lo fai nell'ex 1R? No. Nel parcheggio. Non penso proprio. Chi studia sempre queste strane? Tutti, fa soltanto il nuovo posto, in piazza Guido Malaco. Piazza Guido Malaco. È ideale del carnevale in piazza Guido Malaco. Qua abbiamo anche il falegname. Che abbiamo conosciuto l'altra volta. Ah sì, abbiamo conosciuto l'altra volta. Che intentano il lavoro, ha detto, ce n'è anche troppo. Va bene, appuntamento, questa domenica è la prima uscita e poi le altre che hai detto. Sì, domenica 12, domenica 19, domenica 26, Campo Scuola di Lefrentina, ore 15. Ex Campo Scuola. Vabbè, è sempre Campo Scuola. Sempre Campo Scuola. Ciao. Ciao. Ciao.